Ma non ho mai voluto farlo, in realtà non lo so neanche io, però siccome mi è stato chiesto che non devi raccontare come sei nato, una discussione che ho avuto, mi hanno detto che quello che hai detto adesso se l'avessimo registrato sarebbe divertente, tutte queste cose che dico, bene, allora ci ho pensato, ho detto va bene, io dico quello che voglio, voi scrivete, io poi me le riguardo le cose, le rimetto a posto, insomma, è un, non so come chiamarlo, è un libro, una cosa, un racconto di me stesso con me stesso, bello, un racconto di me stesso con me stesso, poteva essere il titolo, vedi? Ma l'attore è molto cambiato, l'attore è cambiato da quando a Londra vidi, perlomeno per me, vidi il film di Spielberg che era i predatori dell'arca, Raiders of the Lost Ark, i predatori dell'arca produta, lì già c'è un racconto dell'attore, oddio qua si cambia tutto, ma va bene in senso buono voglio dire, perché quindi Spassi non è più legato a queste forme realistiche, finte che dicono, che fanno, non sono d'accordo, per me è tutta un'invenzione, tutto un gioco, non sono d'accordo su certi film che si fanno adesso, è un po' come se Picasso che è passato dal realismo, dalle forme realistiche a rompere tutta l'immagine e ritornasse a fare il figurativo, ecco, mi sembra un po' quello, invece mi sembra che il cinema abbia bisogno sempre di più fantasia, la tecnologia comunque lo cambia, il cinema vero del futuro, cioè lo spettacolo del futuro, non è più quello tradizionale, è il videogame, è il gioco con l'immagine, ecco, andiamo dietro alla tecnologia, che piaccia o no, quello è, sì, non mi fai la domanda se mi piace o no, perché io sono un elettronico, quindi potrei rispondere in un modo molto strano, però questo è il futuro dell'intrattenimento, il gioco con l'immagine. È sempre questo, non c'è...